Estorsione aggravata dal metodo mafioso. Con questa accusa, Gregorio Cacciola, 57 anni, zio paterno di Concetta Cacciola, la giovane testimone di giustizia morta dopo aver ingerito acidumuriatico nel 2011, è stato sottoposto a fermo da parte del Comando Provinciale di Reggio e dei Cacciatori di Calabria, su disposizione della DDA Regina. Grazie all'intercettazione ambientale e telefoniche, oltre che a riprese i video che hanno visto in prima linea i militari del reparto operativo di Reggio e quelli di Rosarno, è emerso che Cacciola avrebbe rivolto richieste estorsive, anche importanti, ad un'azienda agricola di Candidoni, che al momento ha scelto di non collaborare alle indagini. In particolare, l'uomo avrebbe richiesto il tipico regalo di Natale, con il quale avrebbe agevolato anche la sua presunta cosca di appartenenza, quella dei Bellocco, la cosca che sarebbe stata minata anche delle dichiarazioni rese da Maria Concetta Cacciola, fino a portare i suoi familiari condannati fino all'ultimo grado di giudizio a farle abbandonare il programma di protezione ritrattando le sue testimonianze. Madre, padre, fratello della vittima e un avvocato al loro vicino sono stati condannati, ma tanti rimangono ancora gli aspetti della vicenda da chiarire. Tiziana Bagnato per la C News 24.